Ancora un colpo per i pendolari, ancora un aumento dei prezzi. Stavolta ad aumentare sono le tariffe del trasporto pubblico ferroviario che da quest'estate hanno visto l'ennesimo adeguamento all'inflazione corrente. Lo prevede un accordo del 2019 firmato tra la regione Toscana e Trenitaria. Lo scatto dei prezzi è automatico, come ormai da anni siamo abituati a vedere, ma negli ultimi due anni il rincaro non c'era stato. Era infatti stato emanato dalla regione un decreto di sospensione per il BN 2020-2021, così da non gravare eccessivamente sulla crisi economica dovuta al Covid. Ed è così che da qualche settimana i viaggiatori hanno dovuto aggiungere qualche monetina per viaggiare sui regionali e dei regionali veloci. Ad esempio i pendolari che dovranno raggiungere Firenze per andare in università o al lavoro spenderanno 108 euro anziché 105 per un abbonamento mensile, mentre per una corsa singola si va da 8,70 euro a 8,90 euro. Stesso aumento in percentuale per le tratte più brevi, i ragazzi delle superiori che verranno a scuola d'Arezzo da Castiglion Fiorentino spenderanno 2,70 euro per una corsa singola e 49,50 euro anziché 48 euro per l'abbonamento mensile. Per chi viaggia da Montevarchi la spesa ammonterà 4,80 euro per una corsa singola e 74 euro per un abbonamento mensile. Intanto in Spagna treni gratis a partire dal 1 settembre per tutti i pendolari.